Buonasera e benvenute al mio nuovo video di spacchettamento Agon. Oggi vi presento i prodotti arrivati con il secondo ordine di campagna 10 che ho inviato mercoledì per l'urgenza di doverlo consegnare ai domani. L'ho ritirato questa mattina all'ufficio postale e adesso vi mostro che cosa conteneva. Abbiamo questo bellissimo pigiama con disegni marini. Sulla maglietta, che è una carottiera con scollo all'americana, abbiamo il disegno di una tartaruga marina. Mentre sui pantaloni ci sono proprio tutti gli animali marini, le aie, eccetera, eccetera. È molto carino, molto suggestivo e ha dei colori molto estivi e interessanti. Poi abbiamo due candele a stoppino triplo, maxi candele alla anguia. Vi ho fatto vedere il reel di questi prodotti sui miei profili social che ho acquistato per me. Le mie clienti se ne sono innamorate e hanno voluto fare l'acquisto anche di questi. Poi abbiamo il furbante in microfibra per aiutare l'asciugatura dei capelli, con questo disegno molto hawaiano. Abbiamo lo shampoo Hydra Boost, di cui vi ho già parlato, che mi è arrivato in omaggio per aver inviato ordini superiori ai 100 euro entro il 5 di maggio. Perché con Avons ha anche questa particolarità, che ci sono incentivazioni, premiazioni in base all'importo, ai fatturati e all'impegno che ogni presentatore mette in questo lavoro. Poi abbiamo la linea all'olio d'argana con shampoo balsamo 250 ml e olio siero all'olio d'argana trattante. Abbiamo altri due detergenti intimi alla camomilla. Abbiamo quattro bagnoschiuma da un litro della linea Flamingo Sunset a base di ananas rosa e frangipani. Due e due quattro. E poi abbiamo un bagnoschiuma della linea Lamour Sunrise a base di ambra e rosa. Come sapete questi bagnoschiuma sono concentrati e ne basta davvero poco per ottenere un lavaggio completo. Questi sono i prodotti. Io domani sarò in viaggio e porterò i prodotti ai miei clienti di pavia e dintorni. Potete sempre ordinare attraverso il mio store online da tutta Italia. Potete chiedermi consigli o contattarmi, chiedermi come diventare consulente e avere informazioni sempre attraverso i miei profili e i miei contatti che trovate nelle informazioni sotto il video. Io vi auguro una buona serata. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.